Le macchine Eurochef sono la soluzione per poter cucinare cibi di qualità in locali non attrezzati, prive di cucina o di cappa per l'aspirazione. Per lo più si tratta di macchine automatiche in cui è sufficiente inserire il cibo e premere un pulsante. A fine cottura il prodotto esce da solo, non serve un cuoco e chiunque ottiene i risultati perfetti con Eurochef. La qualità del cibo preparato con le macchine Eurochef dipende dal fatto che la cottura avviene in modo tradizionale, la pasta in acqua e il fritto in olio, ed il fritto non risulta mai unto ma croccante e asciutto. Il forno per la pizza e il pizza chef è elettronico con autoregolazione della temperatura della base in pietra, in base alla temperatura delle parti superiore del forno. In 2-3 minuti si preparano pizze fresche o surgelate ed in un minuto si riscaldano tranci di pizza con risultati perfetti. Il forno è illuminato e i vetri non scottano. Le cuci pasta di differenti modelli possono preparare pasta secca, fresca o surgelata, senza cappa di aspirazione e della qualità del ristorante, in pochissimo spazio e con elevati margini di guadagno. Le frigitrici di banco Eurochef sono macchine chiuse che funzionano senza bisogno di cappa di aspirazione oppure con un tubo di sfiato da collegare alla cappa o da mandare fuori dell'ambiente. Le frigitrici automatiche, completamente chiuse e sigillate con guarnizioni, non hanno alcuna emissione di fumi o vapore in atmosfera, come dichiarato dall'ARPA, ente pubblico indipendente. Bar, pub, supermercati, chioschi, pizzerie da sporto ed ogni altro locale non dotato di cucina, con questi macchinari può preparare al momento squisiti snack o piatti di fritto misto, sempre di ottima qualità, senza personale specializzato. Le novità di Eurochef sono le patatine ciao chips fatte al momento con patate fresche. Le patate vengono tagliate di fronte al cliente e fritte, il sistema incuriosisce ed attrae e tutti restano stupiti per la bontà del prodotto. Nelle sagre le patatine ciao chips sono un vero e proprio business, con 400 porzioni riesce a incassare 1000 euro. Grazie a tutti.